Molti sono gli enti che stanno provvedendo in autonomia per monitorare i propri dipendenti e scovare coloro che da sintomatici potrebbero veicolare il virus del Covid all'interno degli uffici tecnici e politici. E così, proprio in base a questo principio, in questi giorni sono stati organizzati ed eseguiti controlli anti-Covid su dipendenti e consiglieri della provincia di Lecce. I test, come lo stesso ente ha comunicato, si sono tenuti nelle giornate scorse all'interno della provincia stessa. Nell'attesa che venga installato uno scanner per la misurazione della temperatura e la verifica sull'utilizzo della mascherina all'ingresso del palazzo, si è tenuto un giro di tamponi antigenici. 244 le persone sottoposte a test ed 8 i risultati positivi che, però, hanno successivamente dato tutti esito negativo al tampone molecolare. Una prassi virtuosa che, se applicata in autonomia da tutti i comuni, potrebbe aiutare la struttura sanitaria al monitoraggio del progredire del virus stesso.